Ciao a tutti, mamma mia, come sono sparaflesciata Stiamo andando al Luca Comics, sono felicissima Io sono Rizuka di Loveless Se non sapete cos'è Loveless, andatelo a vedere e rimediate Dovrei avere delle orecchie e coda da gatto, ma le metterò dopo Già devo uscire di casa così fino alla macchina, e vabbè, con queste sopracciglia finte E niente, oggi farò un po' un vlog, perché è qualche anno che manchiamo da Luca Comics E sono tipo super felice e gasata, e quindi Lì ci sono i panni stesi, bello Dobbiamo farci tipo tre ore e mezza di macchina Che poi sono sempre di più, perché traffico e cose varie, vabbè E niente, da Roma quindi tre ore e mezza circa E quindi, vabbè, speriamo di trovare parcheggio, nessun traffico E poi Luca Comics E niente, voglio far vedere il cosplay finito con le orecchie da gatto E ci manca poco ad arrivare a destinazione C'è un po' di fila dovuta a semafori che durano mille e mila anni Però vabbè, arriveremo prima o poi C'è sempre questo effetto fantasma, vabbè Siamo a Luca Faccio video Paolo Voltati Vabbè, lo riconoscete, penso È storia di Kingdom Hearts Vabbè, lo riconoscono solo i videogiocatori, come sempre Vabbè, lo riconoscono solo i videogiocatori A.L.A.N.N.E.A.N.E.B.I.E.G.E.P. Ah ora c'è un reuk C'era un bel reuk vorrei lo stesso stile basta aggiustarlo Allora, siamo a Porta San Pietro dove c'è tutta una marea di gente infinita Dai ma c'è qualcuno? E amore siamo a Lucca, ho detto ci può guardare con tua E siamo qui ad aspettare Alessio e Amica E però io intanto vorrei cercare anche un bagno Ci stanno tutti che si abbassano perchè credono che stai a fare la foto Ah no scusate, scusate Scusate E quindi adesso cercheremo un bagno Cioè non so se aspettare Alessio o cercare un bagno prima No vabbè aspettiamo prima Alessio C'è l'attacco dei giganti là? Chi sono? Chi? Chi sono quelli dell'attacco dei giganti? Non riesca a riconoscerli quelli dell'attacco dei giganti C'è Armin? Aaron E quella la diciamo che poi è diventata cattiva Hit Aiuto Ha già ammietuto una vittima Ha dato già un palloncino E' finita Ma l'hai detto? Si ma sta alla ferra E' un pupaggio che sta fuori a distanza giapponese E' bellissimo lo stesso E' bellissimo lo stesso E' bellissimo lo stesso E' bellissimo lo stesso Vuoi entrare nel vlog? L'artless Fai vedere l'artless Che detta così pare brutta di nuovo Però vabbè E andiamo negli stand Ci siamo separati momentaneamente dalle altre persone Che erano con noi Adesso andiamo a vedere gli stand Che possiamo vedere grazie a questo Al braccialetto Ok Ok Ma perché stai qui scusa? Che stai qui? Ah ok Non vuoi entrare? Si Ciao ragazzi Sì Non so 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 Perché effettivamente tu il biglietto potresti anche trovarlo Belli fumetti Andiamo a cercare l'artless numero diecimo Vai Ah qui ci sono libri Ah qui ci sono libri Ma di mare qua sopra Perché è un po' Ho capito ho capito No di qua forse Lì non ho chiesto però potrei chiedere Se c'hanno gli esci di l'ora Chiedi tu quello? Io chiedo qua Va bene Ma là quello che c'è ricerca è un'aria propria Scusa C'è lei per caso Loveless? Scusami? Loveless Di che cosa hai detto c'è? Jpop Qua Qui c'è Ma anche la dimocchiata Loveless Com'è? Loveless Mi prepari la cosa che dice Jpop Ah ok Qua forse Ah forse Facciamo vedere degli acquisti? No vabbè Facciamo vedere dopo Yeah Noi faccio video più che altro Per far vedere la bellezza No 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 Levigante L'altra è levigante La mia è idratante Ok E poi ho preso Vabbè le altre cose non ve le posso far vedere E poi ho preso Questo? Due fumetti di Loveless Che probabilmente era il personaggio che appunto ho fatto io E mi servivano il 10 e l'11 Non so se ne sono usciti altri in Italia Poi mi informerò E sono felicissima perché ci ho messo una vita a trovarli Nessuno li aveva E quindi sono felicissima Però adesso vi saluto Non ce la faccio più Finisce del vlog E ci vediamo Alla prossima Spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Ciao Vuoi salutare? Bella Se hai voglia di supportare il canale Puoi offrirmi un caffè simbolico usando il sito Ko-fi Vi lascio comodamente il link in descrizione Il ricavato verrà usato esclusivamente per comprare libri con cui arricchire il canale Con aule, recensioni e molto altro Ovviamente vi lovo che lo facciate o meno Ciao 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 Ciao